Quello che cade sulla Cassia B sono tutti questi rifiuti che si trovano lungo la sede stradale e l'indice di un'assoluta disorganizzazione nella gestione del ciclo dei rifiuti, da parte di quei comuni ma dalla stessa regione. Manca una politica complessiva che sappia organizzare il ciclo dei rifiuti e partire dalla raccolta differenziata che impedisca fenomeni di questo tipo, che noi riteniamo non siano dovuti solo esclusivamente al comportamento incivile di alcuni cittadini ma dall'assenza di una strutturazione del ciclo dei rifiuti che possa consentire al cittadini di conferire il rifiuto stesso. Su questo noi presenteremo un'interrogazione urgente alla regione per chiedere all'assessore Di Paolo spiegazioni perché sulla questione dei rifiuti la regione non solo è latitante ma irresponsabilmente rischia di portare la nostra regione e un pezzo in particolar modo importante come la provincia di Roma a imitare il modello napoletano.